Allora ragazzi, buon pomeriggissimo, vi dico una cosa, qui intanto c'è Giordino, mi ha prestato il suo telefono perché il mio telefono non fa l'audio bene, non sai perché, comunque con uomini e donne alla televisione vi dico che se questo video raggiunge i 180 mi piace entro le 19, alle 19.30 mi ha da fa' i capelli bianchi, solo i ciuffi, che brutti, solo i ciuffi raga, e a Romics non vedete i capelli bianchi. Io ho detto, vabbè, 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 fate con me pare.